Ufficialmente esercitava la funzione di centro massaggi, ma all'interno dei locali avveniva un articolato sistema di prostituzione attraverso il lavoro in nero di alcune operatrici. Operazione della Guardia di Finanza di Barletta in un'attività commerciale cittadina, all'interno della quale si effettuavano massaggi erotici volti al raggiungimento del piacere da parte dei clienti. Arrestato e trasferito presso il carcere di Trani il titolare del centro massaggi, nei confronti del quale è stato anche disposto un sequestro preventivo di circa 500 mila euro agli arresti domiciliari. Invece è una donna con compiti fiduciari di segreteria, gestione del denaro e organizzazione degli appuntamenti. L'operazione delle Fiamme Gialle è partita da un'indagine per contrastare il lavoro nero e irregolare, concentrando l'attenzione proprio sull'esercizio commerciale di Barletta, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani. Sono state avviate attività di investigazione ed intercettazioni telefoniche ambientali che hanno chiarito il complesso sistema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Giovani ragazze, italiane e straniere rispettavano un rigido tariffario tra i 100 e i 300 euro, con il prezzo che variava in base al grado di intimità richiesto dalla clientela. In alcuni casi, inoltre, le prestazioni avvenivano in modo totalmente gratuito per fidelizzare i clienti, attraverso una speciale raccolta punti. Oltre all'arresto del titolare e ai domiciliari per la donna coinvolta nella gestione dell'attività, il sequestro preventivo di 500 mila euro include una somma di 16 mila euro in contanti, i due conti correnti, due autovetture riconducibili all'imprenditore e il locale adibito d'attività commerciale.